Accorpare alcune linee per garantire un servizio migliore alla luce della crescente riduzione dei fondi a disposizione per il trasporto pubblico locale in Campania ed in particolare nel Salernitano è quanto prevede il piano al quale sta lavorando l'amministrazione comunale di Salerno ed anticipato in parte dall'assessore alla mobilità Cascone nel corso di una tavola rotonda organizzata da Lega Ambiente a bordo del treno verde. Ieri sera sui temi della mobilità sostenibile si sono confrontati amministratori ambientalisti ed esponenti del mondo sindacale, dalle piste ciclabili alle auto elettriche, al bike e car sharing. Dopo aver firmato il contratto di servizio con il CSTP, entro fine mese il comune di Salerno intende definire il nuovo piano trasporti che porterà ad una revisione complessiva delle attuali corse. Noi stiamo camminando con un servizio che non si è modificato nella sua strutturazione e che continua a fornire anche linee molto molto lunghe, penso via Ligea sordina. Probabilmente bisogna iniziare a pensare, a spezzettare queste linee, magari chiedendo un sacrificio ai cittadini di cambiare pullman, ma garantendo che a quel dato minuto i due pullman possano trovare una coincidenza. Questo è possibile se cerchiamo di non fare linee troppo lunghe, ma di garantire invece tutti i percorsi collegati ma con tratte più brevi. Quindi ottimizzare le linee, i percorsi e gli orari immagino? E gli orari sì, perché ovviamente un'altra riflessione va fatta che non possiamo continuare ad avere servizi lungo tutta la giornata con la stessa intensità. Dobbiamo immaginare delle ore che vengono definite di carico e delle ore di molle, questo è il termine tecnico, dove appunto magari alle 11 non è necessaria una frequenza di pullman come quella che può essere alle 8 di mattina piuttosto che alle 20 di sera, alla chiusura di uffici, negozi e quant'altro. Così per la sera magari garantire un collegamento verso le 10, una circolare che colleghi la città dopo le 10 ma non garantire le linee che vanno avanti fino a mezzanotte. Cascone sta lavorando anche all'attivazione della metropolitana leggera di Salerno, domani incontro a Napoli con RFI. Intanto l'assessore salernitano ha replicato al collega della regione Campania-Vetrella secondo il quale per dare il via alle corso ci sarebbero ancora problemi infrastrutturali. Noi riteniamo, ma perché ce l'ha chiesto il Ministero, non per un nostro capriccio, che per andare avanti sulla scelta della gestione infrastrutturale ceduta da RFI la linea vada riconosciuta come ferroviaria anche se effetto un servizio metropolitano. Cosa che abbiamo sancito anche in una riunione presso il Ministero nel febbraio del 2012 ma che ad oggi non viene riconfermato alla regione Campania. Purtroppo tutti i tecnici e gli amministratori di RFI e tutti i dirigenti dei ministeri di ben due settori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci chiedono questo inserimento. Noi abbiamo proposto anche un protocollo d'intesa che possa superare la delibera se questo generasse dei problemi, ma ad oggi non abbiamo risposte concrete.